Il Children's Club di New York dà il benvenuto al campione mondiale dei metri massimi, Billy Hood. Buonasera. Allora, ecco, preferirei prendere un paio di destri che stare qua su, ma... Non sarei qua questa sera se non fosse per il Children's Club. Mi hanno dato un letto, mi hanno dato i miei primi guantoni, dei guantoni puzzolenti, mezzi rotti, tutti strappati. Ma erano miei, capite? E ci metti l'anima in quei guantoni. Questa casa è pazzesca. Sì, mi hanno dato una casa dove ho conosciuto i miei ragazzi. Vedete quel tavolo? Io eviterei se fossi in voi. È il bravo, ci sono dei ricchi qui. Ecco... Quando avevo dodici anni, vedi una ragazzina. Era magrolina, i capelli un po' messi male. Ne aveva passate tante. Lei mi è stata accanto quando ero... Quando... Ero carcerato. Un paio di volte. E io sapevo che c'era. Non sarei qui senza mia moglie Morin. Sei grande, Amirine! Ora, voi coi vostri macchinoni, i vostri bei vestiti e le scarpe alla moda, i capelli perfetti, prendete il portafogli e donate, donate, dateci i soldi. Grazie. Grazie.